Potrei farti un'intervista con un magnaccia di Times Square. In dieci cartelle dirò tutto quello che ha dentro la testa. Che cazzo credi di essere? Jonathan Fisher è un giornalista con una scadenza inderogabile. Sta per venirgli un'idea pericolosa. È fantastico. Dove hai preso tutta questa roba? Facile. Ora sta oltrepassando il confine tra realtà e invenzione. A Tyrone. E la sua invenzione lo ha precipitato in una indagine criminale. La cauzione è fissata in 250.000 dollari. Il signor Smalls pagherà la cauzione. Portalo sempre con te. Voglio che tutti si convincano che tu sei il tizio dell'articolo. Jonathan Fisher. Jonathan, già, già. Ti farò vedere io com'è il vero Tyrone. Jonathan Fisher ha molto da imparare. I soldi tutti a me, capito? Adesso calmati. Pasa. Portate via il prigioniero. Lui crede di essere abbastanza duro. Scriverai un altro articolo su di me, solo con dei nuovi particolari. Direi che il giorno in cui quel tale è morto, noi due eravamo fuori città. Io non scrivo niente. Ma sarà meglio che si ravveda presto, perché c'è un solo modo di sopravvivere. Per le strade di New York. Non sai che anche tu puoi morire? Da morto io non ti servo. Christopher Reeve, Morgan Freeman, Street Smart, per le strade di New York, nei migliori cinema.